Bello a tutti, sono FabiJ e oggi siamo su un altro fottutissimo gioco con l'Oculus Rift Cioè, ormai ragazzi ho praticamente la fobia di questo coso Comunque, a parte tutto, regala, il gioco che sto per fare Non è esattamente giochi che faccio di soli Cioè, vedrete voi stessi, lasciamo perdere Vi auguro buona visione, tenetevi forte Ma veramente forte Dai, ok, la smetto Ok, ragazzi, che figo Praticamente adesso che sto per fare non è un gioco È una, un'animazione Sì, ma che cos'è sta roba? Ragazzi, vedo Gesù Vedo Gesù Eh, è andato via Gesù Ah, no, ecco che arriva Gesù Ci sei, ci sono qua Culi C'è scritto culi Eh, non era Gesù Giorno Che cazzo Amico, amico mio Che cosa Cazzo stai facendo, zio Cos'è questa cosa? No, veramente Salve Eh Ah, sta migliorando Che cosa figa? No, veramente sarebbe tipo un cartone Però, beh, visto con l'ordine No, va bene, è una figata Che state pensate? Perché cosa c'ha questo? Perché è così triste? Se mi... Ok Amico mio, togli la mano di Ditti Ti prego Qualcuno ha voglia di spiegarmi questa cosa Va bene Sei rimasto sorpreso, amico mio Vedo che sei contento Ascolta, zio No No, no Ma come? Ma perché? Ragazzi, ma perché? Qual è il senso di questo gioco? Cosa ridi? Che cazzo ridi? Ma perché? Ma qual è? Cioè, allora Ragazzi, due premi Nobel Direi, eh Qua è una cosa incredibile Fantastici! Posso volare anch'io così Ma che cazzo avete mangiato Per riuscire a farsi così? Cioè, sono esplosi Ah no, non sono esplosi Ragazzi, mi spiegate il senso di questo gioco Bello comunque finora Significativo Ma è una tipa questa? No, ma sono maschio e femmina Non si capisce Hanno solo fatto vedere i culi Quindi, non lo so Che bello, eh Complimenti Che bella coppia Ah, no, che tempo No, va bene Che cosa cucciolosissima Sto morendo di diabete Che cazzo è, raga? Dovetevo guardare Micchia di sopra C'è un culo È una... Ah no, è la luna questa Che cosa cazzo ho appena visto, raga? Ebbene, ragazzi Questo era Culi Cioè, un gioco che si chiama Culi Non vedevo l'ora di provarlo, giuro Direi di passare al prossimo Che è un po' più Serio Si spera Perfetto, ragazzi Ci siamo Allora, control Cos'è? Ah, il menu questo Bellissimo Mi da... Sì, ma non funziona Come l'ho detto Funziona Monday Cos'è sto coso? Bell Oh, cazzo Sono Super Mario, ragazzi Ah, praticamente Dovrebbe essere il gioco di Shining Se qualcuno ha visto il film Io non l'ho visto Perché mi cagavo troppo addosso Ah, posso andare avanti Tanto senza pedalare, ovviamente A slitto, proprio Bello Contro la porta Bellissimo No, lo adoro già sto gioco Posso fare manovra? No, ma c'ha, ragazzi Una fisica che è spaventosa Cioè, incredibile E io vado indietro, succa Pam Mica che botta Mi fate capire un attimo come... Ragazzi Ragazzi Ci sono dei suoni bruttissimi Si può entrare nelle porte? Ma dove devo andare? Di qua Perfetto Vado di qua Qualcuno mi deve spiegare Come è possibile Che vada avanti Sto coso Senza pedala Ah, ma pedala Cioè, allora Con le frecce pedala Senza frecce non pedala Voglio capire il senso Ok, ragazzi Va bene Non importa Ho sempre sognato Di essere su un triciclo Giuro Devo capire ancora Dove sto andando Mi fa impressione però Dico sul serio Comunque Non ho mai visto Super Mario Su un triciclo Io ve lo dico, ragazzi Comunque Va bene così Che cazzo di hotell'è questo? Pieno di curve Giorno Salve Gemelle Olsen Siete voi? Volete vedere il mio bel triciclo, zia? Ascolta, fratella Posso avvicinarmi? Senza che mi stupriate la mamma No, ma io poi tornerei volentieri indietro Dietro 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 Sì, ma va troppo veloce sto coso Un po' di enfasi Salve Ma che belle facce che avete Mai sentito parlare di mascara? No, eh Mi sono bloccato, raga Arrivo Arrivo subito In realtà c'ho altri tricicli se volete Stavo scherzando, ragazze Scherzavo Via Ragazzi Ragazzi Via Via di qui Via di qui Via di qui Via di qui Pedala Stronzo Veloce Che cazzo è? Chi è che l'ha ucciso? È di preciso Mi ha piaciuto Ti prego No, 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 no Vabbè, fermi ragazzi Mi fa Non voglio vedere se c'è un infarto Ok? Ah, ah, non c'è Che botta assurda Ero terrorizzato dall'inferno No, veramente È stato assurdo Next one Perfetto, ragazzi Questo si chiama Oculus Cos'è? Una roba tipo Porca troia Via, 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 via Ok, buongiorno Ascolti Sono incastrato, vero? Salve Buongiorno Game over Sono un fenomeno a sti giochi Bello Mi è piaciuta questa esperienza? Incredibile Game over Press escape to leave No, voglio continuare Voglio rifarlo perché sono bravo Come si fa? Ci riprovo, ragazzi Perché è stato Ma come si fa a cambiare? Ah, così Minchia che figo Mamma, certo Cioè, come cazzo Via, 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 via Cazzo Bello Ho già preso un tronco, ragazzi So guidare Ma io non c'ho la patente Potrebbe essere un problema Buongiorno No, 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 no Mi sta ancora seguendo Sì, cazzo Via, 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 via E ho preso un tronco, vabbè Ragazzi, io non ho capito perché sti giochi qua mi devono far guidare Prima il triciclo E poi una cazzo di jeep A caso Merda Buono, fido Eh, vabbè Cazzo Ne vuoi le crocchette? Non le vuoi le crocchette, ragazzi Non le vuole le crocchette Cioè, è una roba in testo Ma perché mi sta seguendo il t-rex? Cioè, che cosa cazzo ho fatto? Ho rubato del shit in scampola da molte parte no ragazzi non potete farmi fare giochi come guido perché non la fa bene no no sei bello lo so perché sei bello lo sapevo anche io prima allora ricapitolando perché non ho capito un cazzo fatemi guidare prima che se no vado a sbagliare perfetto c'è un t-rex che la madonna che che mi stordisce leggermente le orecchie sta probabilmente tentando di sbranarmi le mutande e non ho capito perché e io sto guidando una cosa una macchina cioè io non saprei guidare in una strada vuota aperta praticamente devo guidare con dei tronchi e con un fottuto t-rex di merda tacci tua madre che quella ma è veramente brutta tua madre ti giuro ma che poi il bello di sto gioco è che se vado indietro con la testa non vendo più un cazzo perché c'è sta roba ecco infatti sto prendendo un troppo in faccia giusto bello l'hanno fatto proprio bene senti stronzo ma c'è un regolo ma cosa è sta roba ah è il punteggio cazzo ok e niente e poi sbatto contro qualcosa che non esiste non so guidare ok non so se si è capito cioè ma se io ma perché perché cristo non è capitato cosa cazzo faccio di sbagliato è mezz'ora che ci prova a fare sta strontata non ci riesco perché poi devo riavviare ogni fottuta volta il coso perché se no non funziona più l'oculus una merda da adesso in avanti record mondiale non me ne frega niente sta volta ci provo vai mi guardano anche indietro perché io posso perché io posso io non ho capito il senso di questo gioco raga cioè mi mette un'ansia della madonna che probabilmente sta notte mi sogno i t-rex che mi urlano nelle orecchie perché i t-rex urlano ragazzi suga volevo farglielo però mi rischio di sbattere allora basta mi sono rotto i coglioni basta mi sono rotto i coglioni no veramente è indecente cosa cosa c'ho al posto dei capelli raga cioè in tre giochi non ho fatto uno decente ma vabbè concludo qui l'episodio faccio questa è la valigia la sto facendo perché ovviamente dopo aver provato ste merda devo correre in bangladesh quindi ragazzi se il video vi è piaciuto mi è piaciuto lasciate un commento mi piace anche la faccia di facebook e come ogni video trovate nella descrizione se non siete quali siete iscriviti e ci rivediamo nel prossimo video bene ragazzi grazie